We're gonna get wild! 5 sono maggiorenni, il resto sono minorenni, quindi il top, però io direi di iniziare subito Allora, nonostante tutte queste siano minorenni, a parte Joanna Darko, Liam Schiller, eccetera Dico, Nelly, tu sei troppo, Beta, tu sei troppo, Ceris, sei bellissima, Flora, sei bellissima, Bellartrix, sei troppo Tu devi morire, Trina, pure tu, Suzette, Vittoria, ci sta, Celia, sei bellissima, Sky, pure tu Mer, pure tu, ci sta, pure tu, Silvia, sei abbastanza carina E questa qui dovrebbe essere quella dell'Alius, però non della Gemini Storm Era dell'Epsilon Plus, sì, e non saprei, Rosy Red pure lei E questa è, non mi ricordo, anche perché io adesso non l'ho ancora visto E neanche Orion, se per questo, e non saprei Sandra, lei ci sta, non credo che questo qui sia una femmina Quindi lasciamolo qua Aurelia, pure lei è carina Questa dovrebbe chiamarsi Anna, da quei pochi episodi che ho visto insieme all'Exos Twitch Ed è bellissima, sì Jade, pure tu lo sei Questa non la sopporto Pure questa non la sopporto, dovrebbe essere tipo di Ares o di Orion Anche questa è di Galaxy, non la sopporto È carina, non so chi sia, però è carina Giovanna d'Arco, pure lei ci sta Tu no, è di Galaxy, non mi ricordo neanche il suo nome Anche tu non saprei Tu devi morire, è già nella tua faccia Dovrebbe essere degli angeli, questo di mezzo, quindi di mezzo me le ventre Giulia è una bambina, quindi non potrei classificarla Mettiamo, anzi no, non mettiamo esiste, non la classifichiamo proprio Dato che è praticamente la più minorenne di tutte quante Allora, questa dovrebbe essere quella che aiutava Austin in cucina Quando sua madre stava male È carina Ci sta Goldie, pure lei è carina, ci sta Camelia, pure lei Lea Schiller, non saprei È una tra le poche maggiorenni di questa dear list Questa è quella della squadra di Faye È carina Zuge Liang, non saprei Diciamo che quasi tutte quelle maggiorendi, non saprei Diciamo che l'unica che almeno si salva è Giovanna d'Arco Questa qua È anche lei è carina Non mi ricordo chi era Questa dovrebbe essere della protocollo Omera Non saprei Neanche lei non saprei Intanto grazie camion che passi ogni 5 secondi L'amica di Buddy Non saprei Neanche lei Ho fatto pure la rima Se ci pensate Non lo so E anche questa non lo so Ma perché mettete Gabi nelle femmine? Gabi non è una femmina A Cristo di Congregazzi Spero che questo video vi sia piaciuto sotto in descrizione Vi intero ovviamente la tier list Perché non dobbiamo farla soltanto noi Youtuber di Inazuma Queste tier list Dovete fare pure voi Perché noi non dobbiamo soffrire di queste penitenze Dovete fare pure voi Quindi taggateci Taggateci Mentre voi fate queste tier list O meglio Non mentre Ma comunque vi ringrazio di aver visto questo video Vi ringrazio di aver visto questa tier list abbastanza corta Dato che appunto i personaggi in sé erano abbastanza corti Ma del resto sono ragazzi Cosa dobbiamo commentare delle ragazze? Cioè cosa? Cosa? Ok? Probabilmente mi sto allanerando un pochettino Quindi vi direi di concludere qui Lasciate like Condividete e iscrivetevi al canale Ovviamente cliccando sempre su quella campanella E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video Ciao